Buonasera a tutti i trader, a tutti gli investitori da parte di Petroliglia, responsabili del blog Un occhio sui mercati azionali. Andremo ad affrontare tra pochi istanti l'analisi della giornata sui mercati finanziari del vecchio e continente. Diciamolo subito, una seduta in profondo rosso sui principali mercati azionali internazionali perché arriva la delusione a sorpresa dagli Stati Uniti per quanto riguarda il dato sul PIB, sul prodotto interno lordo del primo trimestre, è salito di un modesto più 0,2%, ampiamente sotto l'1% previsto dagli analisti. Ricordo che l'economia americana quindi rallenta pesantemente il passo in scia al forte calo degli investimenti aziendali, in particolar modo ricordo anche la flessione delle esportazioni e alla maggiore cautela da parte dei consumatori che iniziano a mettere da parte i propri risparmi e in questo contesto maggiore importanza sarà dato alla riunione di questa sera da parte della Fed, alle ore 20 uscirà il comunicato stampa, anche questo importante per capire a questo punto quando arriverà il primo rialzo dei tassi di interesse oltre e oceano. Quindi in questo contesto listi nazionali che da due minuti hanno chiuso i battenti e sul mercato dei governativi poco a segnalare, ricordo gli spread che viaggiano sui valori di ieri, mentre sul valutario arrivano le prime importanti novità con l'euro che brecca al rialzo la soglia dell'1,10 importanti resistenze, ricordo l'ampio trading range in atto da oltre un mese e mezzo e chiusura in aria 1,114. A questo punto le basi sono per una continuazione del rimbalzo del recupero da parte della moneta unica europea fin verso i prossimi target rialzisti posti in aria 1,15. Quindi attenzione ai segnali positivi che arrivano dalla moneta unica europea. Seduta sui minimi di giornata per il nostro Fuzzi e Mib e che rompe a ribasso in chiusura la soglia dei 23.000 punti. Quindi attenzione perché il segnale arrivato nella giornata odierna è abbastanza importante e negativo e conferme sotto i 23.000 punti dovrebbe velocemente portare il nostro mercato italiano al test delle ex resistenze ex top del 2014 posizionati in aria 22.550, 22.600 punti. Ricordo che è vicino alla soglia dei 23.000 punti. Trantita anche la media mobile a 50 sedute. Quindi importanti le prossime sedute. Ricordo sempre le news che potranno arrivare dalla Grecia. Anche queste in grado di condivisione i mercati nazionali. E in questo clima di negatività attenzione perché questo ribasso potrebbe portare importanti occasioni nelle prossime giornate su alcuni titoli. Su questo segnalo il titolo Saipem. Anche qui i primi livelli a cui fare attenzione. Aria 11,85 che erano le ex resistenze e sempre nel settore petrolifero. Attenzione al titolo e Sarasa. Anche qui i primi campanelli d'allarme in aria 1,60-1,62. Minimi fatti toccare a metà aprile. Ed ex resistenze appunto del titolo Sarasa. Quindi su queste debolezze si potrebbe intervenire su questi due titoli legati al settore petrolifero. Ricordo sempre chi fosse interessato al servizio di report e di segnali operativi basta conduttare la pagina Premium di Trend Online, scrivere una mail che avete sullo sfondo ma più semplicemente cliccare in alto l'icona a destra che vi porterà alla pagina lancio per la sottoscrizione dei due tipi di servizi legati sia alle Blue Chip 40 e alle Mid Cap. Con questo è tutto, l'appuntamento è domani, ultima eseduta della settimana, settimana corta, visto la festività del primo di maggio. Ancora una volta buona salata a tutti e buon trading.